La scrittura assunse in Etruria un ruolo fondamentale nel rapporto fra uomini e divinità. Infatti quella etrusca era una religione scritta e codificata da un nucleo di libri, cioè quella che è chiamata la disciplina etrusca. Tale religione era inoltre rivelata, infatti i miti narrano che questi libri furono trasmessi agli uomini da creature divine come Tagete. Il bambino dalla sapienza di un vecchio e la ninfa Vegoia, Iasa Vecuvia in etrusco. Non è quindi un caso che i più lunghi e articolati testi etruschi rimasti abbiano un carattere sacro e siano calendari rituali. La pratica del culto si formò in analogia alla liturgia delle corti aristocratiche del VII-VI secolo a.C. e il rapporto con la divinità ricalcava quello dello scambio di doni fra individui di alto rango sociale. In questo modo l'offerta alle divinità assumeva la forma di un accordo tra privati fissato dal testo scritto in un universo dove anche gli dèi sapevano leggere e scrivere. L'uso della scrittura nelle cose sacre si sviluppò infatti in parallelo all'emancipazione dei luoghi sacri dal potere aristocratico, con lo sviluppo delle città e con l'antropomorfizzazione delle divinità stimolata dal contatto con Greci e Levantini. Con la nascita dei grandi santuari, durante il VI secolo a.C., la pratica scrittoria venne strettamente legata al culto, tanto che proprio questi luoghi del potere religioso ospitavano scuole, divenendo così i centri di riferimento primari per l'elaborazione e l'apprendimento della scrittura.